Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, circa un terzo delle malattie cardiovascolari dei tumori potrebbero essere evitati grazie ad un'equilibrata e sana alimentazione. Un'alimentazione inadeguata, infatti, oltre a incidere sul benessere psicofisico, rappresenta uno dei principali fattori di rischio per l'insorgenza di numerose malattie croniche. L'importanza del binomio alimentazione e buona salute al centro dei lavori organizzati nella sala, convegni della Camera di Commercio di Bari nel corso, in un incontro organizzato da Anteas Bari e FNP Cisle Bari. Abbiamo voluto collocare questa iniziativa partendo da un dato, che come Anteas vogliamo dare, perché nel nostro DNA c'è il dono, la gratuità che diamo alle famiglie disagiate. Quindi partendo da un'iniziativa che l'abbiamo messa su tra Anteas, FNP e l'azienda di Velle che ci ha donato dei prodotti alimentari, abbiamo creato 60 pacchi da distribuire alla povera gente che ne ha bisogno attraverso le parrocchie e la Caritas. L'alimentazione è uno dei fattori che maggiormente incidono sullo sviluppo, sul rendimento e sulla produttività delle persone, sulla qualità della vita e sulle condizioni psicofisiche con cui si affronta l'invecchiamento. Decisamente la buona alimentazione limita l'incidenza non solo delle malattie metaboliche come il diabete, ma riduce anche la progressione verso le malattie degenerative, la terosclerosi piuttosto che la oncogenesi. Chi mangia bene si predispone a non avere tutta una serie di malattie nel tempo, quindi l'alimentazione è la prima cosa. Per quello che riguarda il diabete le tre A, come dirò fra poco, che sono fondamentali sono alimentazione, attività fisica, autocontrollo. Ai lavori tra gli intervenuti anche Luca Napoli, biologo nutrizionista, Francesco Canone, ingegnere Beppe Nanola, segretario generale aggiunto della CISL di Bari e Domenico Liantonio, segretario generale pensionati CISL Bari.